Era il 2 novembre del 2007. Cosa successe esattamente? Bella domanda. E se avessi una risposta, forse non sarei qui a raccontarvi una storia. Nessuno può andare. E il problema è solo mio. Da quando tua zia ci ha lasciato prematuramente, è tutto più complicato. Ti ha acceso mamma, è ancora a piede libera. E non ci dorme, non è niente. E non sei più ognuno. E non sei più ognuno. E non si muove foglie senza che moro. Vedrai papà. Non ti deluderò. Ovviamente tutto rimarrà riservato, come sempre